eccoci e ben ritrovati all'ennesima puntata di half time talk il podcast di canale europa sport che ogni settimana trova a tenervi compagnia con le notizie più interessanti dal mondo del basket oltreoceano quello che più ci appassiona quello che più ci interessa puntata siamo verso la fine della regular season ormai manca un giorno una giornata per questo saremo sia un po tristi no perché verso la fine si è sempre un po tristi che certe squadre non le vedremo più però anche molto felici perché non vediamo l'ora che arrivino finalmente le partite che contano come sembra io non so se tu sei tristi non vedere più charlotte o detroit però vedo che si è già intromesso all'interno della puntata perché stavo proprio presentando il nostro definirti ospite non penso sia possibile perché sei il co conduttore quindi il nostro co conduttore il nostro compagno di viaggio come sempre esatto bello questa mi piace compagno di viaggio bello mi piace ciao ste ci siamo sì stanotte non giocherà nessuno noi registriamo la pomeriggio di sabato domani ultima partita di di regular season per tutti quanti e sinceramente mi aspettavo di arrivare a un finale un po più definito e invece non lo sentite lì esatto nonostante le 81 partite già 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 giocati e non siamo riusciti a definire una classifica e penso sia la prima volta la strada dell'nba che è tutto così in bilico e sappiamo solo ma io credo esatto esatto uno accoppiamento si dei playoff si sa semplicemente che don ci giocherà ancora una volta contro i clippers e non so se i clippers ne sono molto contenti visti visti i trascorsi e poi l'altro accoppiamento fantastico che non vedo l'ora di vedere anche tu immagino è quello dei play in tra atlanta e chicago che è una partita che si potrebbe anche non giocare però lasciamo perdere si è veramente tantissimo se ci vedete l'entusiasmo sarà palpabile e quindi niente e tra l'altro è tutto indeciso cioè io pensavo ad ovest abbiamo fatto una puntata qualche settimana fa sul casino che c'era ad ovest ma anche adesso è tutto veramente in bilico anche per il secondo posto perché sia in new york che i bucks possono possono giocarselo per il quinto per i play in stessi firadelfia arriva da sette vittorie consecutive e sta uscendo anche grazie al ritorno di un beat dalla zona play in e ad ovest lascio a te spiegare il casino che c'è ad ovest perché io ho letto tre volte ho letto tre volte tutto ma non ho capito niente non ho capito niente anche perché avevamo già fatto un pezzo di introduzione no un pezzo comunque anzi una puntata intera sulla situazione ad ovest e già non ci capivamo niente tanto che eravamo stati obbligati ad inserire delle squadre come possibili play off e altre possibili play in per fortuna abbiamo che almeno i clip per se i mavericks ci avevamo beccato sul fatto che andassero diretta ai play off anche se in questo caso anche loro sono quarta quinta e sono le uniche due che abbiamo già detto che finalmente si scontreranno e già lo sappiamo però sia sopra che sotto è un casino come hai detto tu perché intanto il primo posto ce lo stiamo contendendo direi alla grande no perché siamo siamo tutte lì se possiamo metterla così anzi siete tutte lì perché penso che dalla parte tua ci sia un leggero interesse nel sapere chi andrà per primo ai play off in quanto al momento non so se posso dirlo se ti se ti fa male ok sì a pari merito con Minnesota e Denver sono tutte 56 25 che penso sia una cosa che non si vedesse da anni perché tre squadre al primo posto pari merito penso che non è come tra l'altro la cosa ancora più interessante è che anche non so in vari campionati anche nel calcio capita magari che arrivano tre allo stesso punteggio e dici vabbè ognuno è padrone del proprio destino in realtà no perché per la combinazione delle delle vittorie anche se per esempio che si dovesse vincere non è detto che rimanga prima perché qualora Denver perdesse e Minnesota vincesse rimarrebbero entrambe con lo stesso record ma il tiebreaker quindi lo spareggio favorisce Minnesota quindi è proprio un casino cioè non è che vince e dici ok sono primo e poi c'è anche un altro concetto da dire secondo me è che Denver si è rovinata un po tutto stanotte contro contro gli Spurs con il canestro non si sa come vabbè di Devont e Graham che si è ricordato ogni tanto riesce a far canestro e adesso io io fossi in Denver addirittura per la questione degli accoppiamenti forse tenderei arrivare terzo perché poi forse per gli accoppiamenti sarebbe meglio arrivare terzi che non che anche perché in questo momento come settima ottava ci sono i Suns e i Lakers ovviamente i Lakers ormai arriveranno così però sai beccarti una di queste due squadre non è non penso sia proprio la passione che tutti vogliono si stiano aspettando per farsi un primo turno contro KD o Lebron quindi è una situazione abbastanza complicata secondo me sia Nuggets che magari altre squadre agiranno un po' nell'ultima giornata non solo di vincere perché dobbiamo vincere ma iniziamo a riflettere se conviene vincere o se o se magari non conviene perché come dici tu la partita di stanotte non so se sia stata una scelta o no ma a perdere contro gli Spurs che tra l'altro se vogliamo farlo con me no anche perché se fossero passati cioè vincendo avevano credo assicurato forse addirittura il primo posto e quindi forse no cioè avere il vantaggio di avere il fattore campo comunque per Denver l'abbiamo detto è un vantaggio perché comunque il fatto che si giochi in altura e quant'altro è sempre è sempre un vantaggio per loro avere il fattore campo sempre e quindi è un ragionamento che nasce dal fatto che appunto si è persa questa questa partita e tra l'altro Denver facciamo un piccolo spoiler visto che questa è solo una piccola introduzione ma la puntata di oggi si concentra finalmente dobbiamo dire la nostra cioè arrivati ad apri dobbiamo dire chi vincerà l'anello e abbiamo pensato di ragionare questa puntata puntando su due cavalli che secondo noi sorprenderanno comunque si giocheranno il titolo fino alla fine e invece un cavallo che i cari amici di Max Allegri che invece ci lascerà lungo la strada quindi una delusione per quanto riguarda le contendere ovviamente Denver è una di queste non vi spoilerò tutto su dove è Denver però sicuramente è dentro in queste cell guarda se non ti dispiace tu hai citato il nostro allenatore il nostro mio purtroppo non tuo quindi non posso che non partire da una squadra in particolare perché se tu mi citi Allegri e mi citi Cavalli non posso partire che da Minnesota no il suo cavallo il cavallo di Max Allegri e partiamo subito un grande gancio questo un grande gancio partiamo subito però da quella che io ho inserito questo è brutto da dire quindi lasciatemi spiegare tra i possibili flop prima di tutto vorrei fare un'anticipazione cioè dire che definirla flop anche dovesse uscire al primo turno secondo me è impossibile perché c'eravamo già basati sulle parole di Gannis quando avevano detto che non per forza se non vinci l'anello sei un flop sei un fallito o qualcosa del genere perché ovviamente Minnesota ha fatto una stagione pazzesca onestamente non me ne aspettavo già lì stanno dimostrando che nonostante gli infortuni di Towns nonostante altri problemi fisici altri problemi di squadra hanno sempre mantenuto il ritmo rischiano anche di arrivare primi come hai detto tu prima ci sono due diciamo analisi che mi hanno fatto pensare il fatto che fosse possibile anche che magari non riuscissero ad andare più avanti o non riuscissero a mantenere in postseason quello che stanno mostrando in regular season non so se vuoi commentarli anche tu però avevo visto due dati uno che diceva che sono la squadra tra le contender quindi tra le prime 3 o 4 per conference che nelle partite di clutch time ne hanno perse di più quindi quando si gioca punto a punto verso il finale Minnesota è una delle squadre che tra le forti ha perso di più e un'altra è che rischiano anche di beccare Phoenix tra l'altro Phoenix Minnesota sarà la partita finale di domenica sera e contro i Suns non hanno mai vinto in stagione quindi sono comunque due dati importanti per quanto abbiamo sempre parlato benissimo di Minnesota e comunque ripeto sono una grande squadra e non sarà un fallimento non so se sei d'accordo o se magari pensi che andranno avanti sicuro ma come hai detto tante volte è tantissimo quest'anno più che mai è una questione di accoppiamenti cioè come hai detto tu dovessero passare come primi secondi terzi quello che sarà e beccare i Suns sarà molto difficile perché proprio si sposano male le due squadre cioè per una questione tanto più ancora adesso che è rientrato anche Towns che è stato fuori, ha avuto mi pare lo stesso infortunio in Embiid ma è stato fuori molto meno è rientrato e con Towns in campo diventa davvero difficile secondo me più che altro a livello difensivo per Minnesota coprire le spaziature che possono mettere sul campo i Suns e quindi però qui stiamo parlando di una questione ipotetica e di un accoppiamento che non sappiamo ancora se sarà quello o meno magari le analisi sulle serie le faremo quando avremo tutto definito e sicuramente è difficile per me parlare di Minnesota nel senso che l'appetito viene mangiando cioè non ci aspettavamo una stagione del genere però una stagione del genere che potrà essere al primo, secondo o terzo posto ha fissato l'asticella secondo me un po' più in alto nelle aspettative che avevamo di questa squadra e quindi vederli uscire al primo turno sarebbe comunque uno smacco secondo me perché è già capitato l'anno scorso per esempio con Memphis uscire con i Lakers al primo turno è chiaro che non è che abbiamo distrutto Memphis per questo motivo o altro, poi si è distrutta da sola per altri motivi Memphis quest'anno però di sicuro sarà, questa run playoff sarà decisiva per il futuro di Minnesota cioè dipenderà tanto da cosa succederà quest'anno e quanto avanti riusciranno ad andare, come ci andranno se usciranno subito come hai detto tu l'estate, quest'estate a differenza di magari altre squadre che a prescindere dal risultato continueranno più o meno con questo cor io penso che Minnesota quest'anno abbia messo la chip su questo tipo di playoff e dovrà valutare il suo futuro molto a seconda di come andrà sì, sono d'accordo con te ma soprattutto sappiamo già che tra analisti NBA e tifosi Towns e Edwards saranno molto sotto l'occhio del ciclone nel caso non dovesse andare bene perché ormai siamo abituati così i due giocatori hanno abbastanza pressione sulle spalle beh ma anche lo stesso Gobert perché poi vabbè la Gobert anche dovesse andare bene sì infatti, esatto, anche se vince le MVP delle final avranno comunque da dire però sono curioso di sapere quale hai messo tu se hai voglia di partire dalle flop così poi vediamo flop ovviamente tra virgolette possibili comunque squadre che non rispettano quanto ci stiamo aspettando così poi passiamo magari alle migliori secondo noi allora a mia discolpa devo dire che avrei messo nelle squadre flop questa squadra anche senza l'infortunio che ha subito la sua stella recentemente sto parlando dei Milwaukee Bucks più volte durante l'allenatore no, no, cioè oddio parliamone nel senso che più volte durante la stagione abbiamo detto dei problemi e del cambiamento che comunque Milwaukee ha avuto durante l'anno però al di là del fatto che quello spogliatoio sembra davvero davvero ingestibile perché io le ultime dichiarazioni di Dog Reapers cioè sembra che stia andando a organizzare un esercito pronto per una guerra in cui devono morire tutti cioè una guerra già persa cioè fa delle dichiarazioni che mi lasciano veramente perplesso non che di solito sia stato un luminare però tant'è l'infortunio ovviamente di Giannis complica notevolmente le cose anche perché l'infortunio non è così grave come ci si aspettava quindi questo è una cosa molto positiva ma mi ricorda sinistramente ciò che è successo a Durant nel 2019 cioè KD ebbe un infortunio simile durante i playoff e poi il coaching staff dei Golden State Warriors decise di farlo giocare comunque forzando o meno il ritorno non si è mai ben capito anche perché poi è stato forse questo il motivo per cui KD non è rimasto e quella poi scelta di farlo giocare portò alla rottura del tendine d'Achille per il 35 quindi sarà davvero difficile gestire Giannis e lo sarà ancora di più qualora Milwaukee dovesse finire seconda perché poi dal play-in per come stanno le situazioni adesso a meno di sconvolgimenti potrebbero prendere una tra Miami e Philadelphia e un primo turno per Milwaukee contro Miami o Philadelphia come anche per Boston perché poi anche per Boston le prospettive sono le stesse è un primo turno veramente tosto veramente tosto e quindi nonostante un secondo seed che è quasi confermato a meno che appunto come abbiamo detto i Knicks possano vincere loro perdano contro Orlando e quindi scalerebbero al terzo posto io vedo una difficoltà per Milwaukee ancora di più senza Giannis non che con Giannis appunto la mia opinione sarebbe cambiata io non mi aspetto che Milwaukee possa far chissà che quest'anno è chiaro che vengono da un primo turno dell'anno scorso quindi comunque diciamo che è una discreta delusione se la portano già però la mia scelta è ricaduta di loro allora su quando stavo ragionando anch'io sulle squadre ho pensato subito a Milwaukee però poi ho fatto una riflessione differente perché purtroppo anche devo dirlo ho visto le ultime due partite tra Boston e Milwaukee che si sono giocate tipo nelle ultime due o tre settimane la prima ha visto Milwaukee sfidare Boston senza Giannis perché era infortunato e nonostante questo avevano fatto un ottimo recupero di più di 20 punti mentre l'altra vincendo quindi Milwaukee alla fine mentre l'altra aveva anche vinto Milwaukee che si era giocata forse la scorsa settimana ed è proprio la partita in cui Giannis ha avuto il problema fisico quindi ha giocato tipo 15 minuti e poi uscito quindi da un punto di vista dico sì dai dati tra le prime forse Milwaukee anche dall'arrivo di Doc Rivers sta facendo peggio di Griffin perché se non sbaglio ha quasi il poco più del 50% di vittorie cosa che ti fa capire che una contender di solito non dovrebbe essere messa così d'altro punto però mi sta anche dimostrando che nelle partite in realtà quelle decisive a volte ha qualcosa da tirar fuori secondo me cambia molto invece se ci sarà Giannis o no perché senza secondo me le chance sono veramente poche no chiaro 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 io intendevo che avrei scelto come delusione è chiaro che a maggior ragione senza Giannis parliamo di una squadra che ti fa ancora più fatica tu dici che giustamente anche con Giannis fanno fatica stanno dimostrando che purtroppo sono delle difficoltà cioè è comunque una signora squadra poi sarei molto sorpreso ovviamente di non so di vederle in FI Conference o di vincere addirittura l'Anello però parliamo di una squadra che può farlo è ciò che ha dimostrato finora che mi porta a dire sarà molto difficile cioè potenzialmente lo possono essere ma come dicevamo all'inizio dell'anno cioè il pick and roll, Lillard, Giannis e comunque tutte le letture o comunque l'affiatamento tra questi due giocatori potenzialmente è un'arma invincibile però non hanno dimostrato in 82 partite di aver fatto questo step in più e non mi aspetto che possano fare click adesso vi avrei voluto vedere dei segnali diversi per esempio c'è un'altra squadra di cui parlerò dopo che mi ha dato dei segnali di cambiamento netto nell'ultimo periodo quindi è per quello che dico, loro ci sono Bill Wocky, boh, davvero boh, non saprei è vero e nonostante ciò però abbiamo appunto detto che la inseriamo comunque tra le contender perché arrivano secondi hanno un'ottima squadra arrivano secondi dietro ai Boston Celtics di cui ovviamente non potevo non parlare penso che già te lo aspettassi che lo inserissi tra le top ma non solo perché non piacciono 2 vittorie, 64, 65 direi che sono i fauniti dai era dall'epoca del quartetto che ben conosciamo che hanno vinto anche l'Anello che non facevano un numero così alto di vittorie quindi ovviamente lo inseriamo anche se qui non penso sia per gufare però dico che ultimamente mi magari perché hanno ovviamente rallentato però mi hanno anche messo quell'ansia che prima non avevo troppo sia perché stiamo arrivando verso le fasi finali e quindi c'è la voglia di vederli in campo sia perché stanno dimostrando che in certe fasi della partita non sono proprio benissimamente connessi non penso si dica questo termine sì ma rende il concetto, rende l'idea esatto e una di quelle partite che ho visto è proprio quelle con Milwaukee ma non solo ce ne sono state anche altre però sai stanno dimostrando che dopo l'intera stagione se la sono giocata al meglio dopo praticamente a venti partiti dalla fine ormai si erano assicurati il posto di playoff il posto all'interno c'è il primo posto all'interno della Eastern Conference quindi direi che ci sta che in questo finale ci sia un calo, una flessione bisogna però avere la forza di ripartire il playoff dove dici ok da adesso ritorno a essere quello che era a metà stagione e secondo me per Boston non so se sei d'accordo tu ma inizia forse avevamo anche già parlato ad essere sì un flop se non vinci cioè un fallimento quasi non vorrei darti contro caro Ste però ometterti più pressione di quella che già non hai però sì sinceramente sì io torno a dire che le chance di Boston per competere davvero quest'anno per l'anello passano essenzialmente dal centro lettone da Christophe Porzingis cioè lui che questa scelta di portarlo lì è stata una scelta ottima del front office perché sinceramente non mi aspettavo che avesse questo impatto mi nominando queste persone e quindi passa tanto dalla sua salute perché abbiamo visto tante volte Porzingis avere dei problemi e spero che ovviamente non ne abbia ai playoff e l'altro grande dubbio che ho cioè non dubbio è il primo turno perché davvero cioè dal primo turno di solito una volta o comunque fino all'introduzione ai playin difficilmente si beccavano delle squadre forti questa introduzione ai playin in realtà fa sì che le squadre forti Lakers Golden State Philadelphia Miami abbiano sempre un'ancora di salvataggio quindi buttare via 10-15 partiti durante l'anno gli permette di arrivare comunque ai playoff al settimo ottavo posto giocandosela i playin favorendo squadre come magari i Magic come i Pacers come gli stessi Cavs che però secondo me sono a un livello un po' diverso pur essendo in calo o ad ovest New Orleans anche se è un'ottima squadra o la stessa Dallas che ha cambiato March però negli ultimi tempi di nuovo il primo posto ti assicurava un primo turno facile cioè il 90% delle volte il primo turno finiva 4-0 4-1 ecco vedere Boston svuippare Philadelphia svuippare gli Heat o chi peressi la vedo un po' più difficile un primo turno tosto che se perdi magari una gara in casa vai sotto 3-1 vai sotto sul 2 pari gara 5 diventa una partita tosta e poi non è facile diventa diventa tosto anche perché abbiamo visto più volte in questi anni della fatica che anche ha avuto per scontrare Miami nei playoff ma sia perché Miami è una squadra complicata per chiunque perché quando sappiamo bene che quando arriva il playoff scatta qualcosa nella loro testa e nella testa di gli spolstra quindi sì è un primo turno già molto interessante secondo me non solo per vedere se passa o se non passa poi ovviamente spero di sì io penso la favorita comunque con tutti lo penso anch'io però è già un bel banco di prova perché mentre magari se incontravi Atlanta sapevi che 4-0 4-1 lo passavi adesso vedi già se ok allora questa squadra è veramente da playoff se mi batti 4-1 magari Miami o Pila cioè veramente da titolo o magari se lo batti ma 4-3 in gara 7 dici ah cavolo però c'è la possibilità che qualcun'altro allora potrebbe giocarsela tipo appunto Denver tipo appunto anche quelle di di Ovest ma vedremo vedremo finalmente dalle prossime settimane in campo dai prossimo weekend c'è nei playoff dai ci casiamo prossima settimana prima però hai detto se non sbaglio che c'era una squadra che invece ti metteresti tra le toppe che ti ha convinto perché ha dimostrato qualcosa in più quindi vogliamo sapere qual è per vedere come allora avevo un dato meraviglioso che è stato rovinato proprio stanotte no no è sempre così da quella squadra infame che gioca a Detroit che sono i Pistons che io veramente non sopporto più perché dopo averli messi a 30-35 vittorie quest'anno e ne hanno fatte 16 hanno deciso di rovinarvi anche questa statistica mannaggia a loro però il concetto è lo stesso cioè da quando Dallas ha cambiato il quintetto e ovviamente appunto parlo dei Mavericks e è passata al quintetto con Luca Doncic Kyrie Irving Derek Jones Jr PJ Washington e Daniel Gafford ha il miglior defensive rating ripeto una squadra con Luca Doncic ha il miglior defensive rating della Lega e è 16-2 che stanotte è diventato 16-3 grazie Detroit un bacio anche a voi e quindi è un segnale secondo me incredibile cioè se la squadra di Doncic funziona in difesa io ti dico arrivo a dire che non dico che sono i favoriti per l'anello però mi hanno davvero convinto in queste ultime settimane io li ho visti in particolare domenica scorsa contro Houston una partita che già persa recuperata non si sa come con una tribla di Dante Exum cioè anche lì incredibile lo stesso Dante Exum che è uscito dal quintetto dopo aver fatto una prima parte di stagione fenomenale da sesto uomo da settimo di rotazione da minuti importanti è una squadra è una squadra che secondo me ha trovato la chimica giusta al momento giusto è vero che gioca contro i Clippers al primo turno l'abbia detto prima è l'unica serie già definita quindi contro una squadra che si ha tutti i pezzi a posto è un'altra squadra fenomenale io mi aspetto una serie scoppiettante già al primo turno ma dove saranno tutte così penso e mi auguro e spero dopo tutta questa attesa però io davvero su Dallas punto molto perché non so mi è scattato l'amore ci sta e tra l'altro se posso permettermi vorrei dire che secondo me non è stato rovinato stanotte il dato perché se guardiamo quella partita non è stata i Pistons a vincerla ma vedere Dallas dove hanno un giocatore che ha fatto fisico che è Jay Denardi neanche uno in quintetto è riuscito a fare almeno 10 punti senza Kyrie senza Donjic facciamo finta che questa partita non esiste esatto non esiste penso che penso che anche i giocatori stessi vogliono eliminarla presto quello che volevo aggiungere nelle infezioni che hai fatto tu e che abbiamo già detto più volte è che come tu prima hai detto che prendere Porzingis per Boston è stata un'ottima scelta secondo me Gafford ad Allas ha dato una svolta non di poco conto perché anche se non è il classico centro che magari ti fa 30, 15 20, 10 o cose simili da un apporto in fase difensiva che è grande enorme anzi a volte ho visto anche delle situazioni in cui tu dicevi prima di Donjic facendo la battuta del fatto che spesso magari non è proprio il miglior difensore certe volte però pur superando Donjic quando arrivi sotto canestro e poi ci sono giocatori come Gafford come anche Washington che comunque sta dimostrando che magari sta peccando un po' da tre che è il suo punto forte in attacco però sta dando un buon rapporto in difesa se tu in una squadra con Donjic Eorving riesci a difendere con i dati che hai detto tu poi in attacco presumo che non ci siano molte difficoltà per quei due fare canestro alla fine no ma anche Kairi sta vedendo la madonna ha visto la madonna le ultime due mesi cioè è una roba è una roba illegale veramente e tra l'altro sono profondi perché sono profondi Mardaway Jr appunto esatto io penso che quest'anno abbia realmente capito il suo ruolo o comunque non lo so con Kairi è sempre difficile fare le giudizie e previsioni però è un giocatore che quando ha voglia quando si allaccia le scarpe o non lo so quando capisce che può lottare per qualcosa di importante ha sempre dimostrato di valere e io penso che quest'anno abbia abbia ben capito che può essere un grande anno e appunto sono anche profondi perché lo stesso team Mardaway Jr cioè è una squadra giusta che sembra aver trovato la ricetta giusta per funzionare è chiaro che dipende molto dal tiro da tre però in questa in via moderna chi non dipende dal tiro da tre forse Orlando che va solo al ferro e basta e qui comunque sta dimostrando che anche loro stanno facendo bene a proposito di Dallas mi ha sempre appassionato anche quando sai facendo a volte il fantabasket dopo aver visto i playoff degli altri anni ogni volta che arriva Dallas contro Clippers io dico Don Ciclo Metto perché 80 50 30 non so cosa gli giri ma diventa ancora più fenomeno di quello che è Clippers che sono l'altra squadra che io ho inserito nel nostro trio di squadre di cui abbiamo ci scontriamo ci scontriamo ci scontriamo finalmente ci scontriamo ci scontriamo anche se ti dirò è una squadra che ho messo a metà tra top e flop perché secondo me è una squadra top in quanto già sono i giocatori che si ritrova sono sono dei giocatori che secondo me se sono messi insieme in una fase di playoff dove devono dare tutto per tutto io li vedo quasi imbattibili sulla carta il problema è che sulla carta spesso non si riesce poi a replicare sul campo anche solo per gli infortuni che ha avuto nell'ultimo periodo Kawai che direi che tra i quattro è quello che più serve all'interno della squadra sia per la mentalità sia per la mentalità che per la fase offensiva e difensiva Paul George sta dimostrando che offensivamente resta se vuole il mostro che abbiamo visto a OKC e a Indiana anni fa Westbrook non so se hai notato ultimamente ma gli hai girato che potrebbe tornare a fare le sue triple e doppie e tornare a essere un giocatore non tanto per forza di abilità non solo di abilità tecniche ma anche di voglia di forza di cattiveria messa in campo e poi c'è il Barba che già leggo già sui social di persone che iniziano a dire ecco l'ennesimo fallimento di Arden nonostante abbia una grande squadra non so come la vedi tu ma io sono un po' indeciso perché secondo me possono fare molto bene però rischiano anche secondo me già con Doncici di uscire alla prima quindi sono veramente combattuto su cosa posso vedere dai clippers che mi stanno dimostrando in certe partite che ho visto anche solo gli highlights no vabbè queste arrivano in un finale in altri dicono ok queste escono al primo turno può può essere tutto cioè i clippers possono essere tutto ciò che vogliono e tutto ciò che non vogliono cioè non lo so non saprei neanche come definirli molto bene è chiaro che vanno dove va Kawhi Leonard o meglio vanno dove va la salute di Kawhi Leonard a maggior ragione una serie che si preannuncia incredibile come quella con Dallas dove probabilmente lo stesso Kawhi si altererà con Paul Jordan nel marcare Doncic quindi avrà bisogno ovviamente anche sui due lati dall'altro al lato del campo allora dovrà sospendersi di più in difesa di un aiuto maggiore dai vari Harden dai vari Powell dai vari Westbrook George comunque anche i clippers ragazzi hanno 8-10 giocatori di rotazione forti non lo so sinceramente cioè sarà davvero una serie io credo che chi uscirà da questa serie probabilmente sarà la squadra che andrà a contendere con Denver per le finali conference anche se bisogna sempre vedere dove finisce Denver è chiaro che se dovessero scontrarsi poi in semifinale ce ne sarà un'altra però penso che chi uscirà da questa serie tra clippers e Dallas anche a livello emotivo avrà una spinta non indifferente sia per il secondo turno che poi per tutta per tutto maggio giugno inoltrato e quindi io seguirei molto attentamente appunto questa l'ho già detto 70 volte non so più come dirlo quindi guardate clippers Dallas perché sarà un grande spettacolo esatto vogliamo divertirci ma siamo convinti di farlo l'unica cosa ultima prima che poi tu possa parlare della tua ultima squadra che ho pensato è che la partita di stanotte per quanto facciamo finta che non esista di Dallas ti ha dimostrato che ok che devi farlo però se riesci in qualche modo a tenere Donchic Irving che comunque hanno ottimi difensori i clippers se in qualche modo riesci anche solo un minimo a farli a far diminuire il loro impatto sul campo offensivamente Dallas forse fa un po' più di fatica con gli altri cosa che magari Boston scusa Boston torna sembra si sa perché magari i clippers hanno lo stesso grandi giocatori offensivi come hai detto tu Power come hai detto Westbrook come hai detto anche altri giocatori Arden già in lui oltre ovviamente le due stelle che sono Paul George e Kawhi quindi basta dirlo sarà spettacolo puro secondo me lo vedremo in campo direi che puoi passare alla tua ultima così vediamo chi è perché sono curioso anche perché ovviamente ne abbiamo detto sei ma potremmo dirne dieci quindi magari poi concludiamo anche un minimo su va bene la mia ultima è abbastanza scontata anche perché mi sembra davvero impossibile lasciarla fuori ovviamente Denver io torno a continuo a pensare che siano i favoriti o almeno sulla carta di nuovo per Rep quantomeno per uscire dall'Ovest poi non so se a quest'anno per vincere le Finals perché credo che comunque la finale dell'anno scorso sia stata abbastanza semplice per loro perché giocavano contro una Miami che si era sfondata completamente nei turni successivi quindi io torno a pensare che Denver sia comunque la favorita è chiaro che dovesse per dire prendere al primo turno i Lakers o Golden State potrebbe già da subito iniziare a sprecare più energia del dovuto anche se l'anno scorso i Lakers erano svipati quindi vabbè però spendere tante energie o anche con i Suns per dire spendere tante energie già dal primo turno a una squadra che come abbiamo detto quest'anno non è più così completa come lo scorso pur essendo cresciuta comunque in ogni suo elemento io ho visto un Jamal Murray ne aspettavo dopo l'anello una stagione ancora più convincente da parte sua non riesco a capire se ha deciso che lui gioca da aprile in poi perché io me lo ricordo il Jamal Murray dell'anno scorso è un giocatore fenomenale e può anche essere perché giustamente ha capito che è inutile sbattersi per i nove mesi di regular season è meglio fare 50 punti ogni sera ai playoff se c'è di nuovo quel Murray ancora più di Michael Porter Jr ancora più di Aaron Gordon ovviamente se c'è quel Murray è davvero difficile battere Denver posto che c'è il sole e tutto il sistema solare in Nikola Jokic ma lui lo farà sempre quindi non c'è più da stupirsi quindi io vedo ho fatto la scelta più facile di tutte nel filo Denver però è anche un po' impossibile lasciarla fuori ecco non so se tu vedi più punti di debolezza in Denver quest'anno nella panchina io come ripeto la cosa che potrei che potrebbe essere è che sicuramente la qualità dell'Ovest si è alzata e quindi può essere che durante una serie per accoppiamento qualcosa non funzioni infatti infatti volevo proprio legarmi più che quello che abbiamo già detto durante il corso dell'anno cioè che non hanno più la stessa rotazione magari degli altri anni cosa che comunque è importante soprattutto ricordo Bruce Brown come giocatore fondamentale dalla panchina ma anche a volte a titolare quello che che forse più mi fa riflettere è come hai detto tu il fatto che forse quest'anno potrebbero arrivare in finale se dovessero arrivare in finale un po' più stanchi quanto meno no perché comunque beccare i Clippers beccare magari OKC beccare magari Minnesotto beccare magari Lakers secondo me non ce l'avranno semplice come lo scorso anno perché comunque secondo me anche se non si arribecchi Lakers per quanto sia una squadra molto simile allo scorso anno e per quanto l'anno scorso come hai detto tu sia finita 4-0 ho l'idea che Lebron non abbia voglia di rifarsi quella figura quindi anche solo magari finisce ok 4-2 per Denver ma comunque te la fa pesare te la fa te la fa combattere ma anche perché sarebbe al primo turno cioè l'anno scorso i Lakers sono arrivati anche un po' stanchi forse cioè beccare al primo turno Lebron e Anthony Davis riposati è diverso che non prenderli in finale dopo già due serie alle spalle esatto e soprattutto anche Davis avevo sentito forse a metà stagione o comunque qualche mese fa delle interviste dove si vedeva che aveva quello scontro con Jokic perché gli continuavano a dire ma ogni volta che ti sfidi contro Jokic ti umilia com'è sta cosa allora inizia secondo me a avere qualche voglia perché già soffrirlo inizia a soffrirlo ma secondo me vorrà anche dimostrare che potrebbe potrebbe essere un giocatore che lo tiene in qualche modo anche perché come difensore tra i migliori della stagione della storia di questa ultima NBA quindi sicuramente sa il fatto suo Denver però resta una squadra che ogni volta abbiamo non parliamo quasi mai di Denver perché ci fa strano cioè parliamo ma non ne parliamo perché ogni volta poi ci riduciamo tutto al ma se giochi gioca come Jokic come facciamo a tenerlo ma fondamentalmente cioè passa tutto da lì cioè ai playoff di solito mi piace fare sempre ragionamento cioè chi ha il giocatore più forte nella serie perché chi ha il giocatore più forte nella serie il 70-80% delle volte alla fine vince cioè è chiaro che passa dai panchinali che non segnare i punti è vero sicuramente non lo metto in dubbio ma ai playoff viene tutto estremizzato e se hai un giocatore più forte è chiaro che quel giocatore ti pone comunque almeno in vantaggio rispetto alla squadra contro i giochi e sinceramente io non ne vedo di giocatori più forti di Jokic cioè infatti probabilmente vincerà l'MVP ma non è il premio di MVP che lo consacra il giocatore più forte è tutto ciò che fai in campo ogni maledetta sera e quindi sono d'accordo con te diciamo che abbiamo parlato delle nostre contender però magari se vogliamo proprio negli ultimi due minuti parlare del fatto che oltre queste sei ci sono altre squadre interessanti non abbiamo citato i tuoi Oklahoma City Thunder che arrivano comunque ancora con la possibilità di essere lì al primo posto perché al momento sono primi quindi è difficile lasciarli fuori dai giudizi di possibili contender mentre anche Philadelphia non abbiamo parlato però se ritorna NBA abbiamo già detto qualche settimana fa che NBA sono la coppia con più punti di media e NBA che da soli fanno più di 60 punti tra l'altro ho letto anche la statistica che nelle partite in cui hanno giocato Philadelphia ha il record di 80% di vittorie cioè è ancora superiore a Boston quindi adesso hanno giocato insieme non mi ricordo tipo 35 partite sono 27-8 una roba del genere cioè hanno un record quando sono insieme Philadelphia forse parte nella condizione migliore per Embiid che ha sempre sofferto un po' troppo la pressione così a fare i spent arrivando da dietro magari riesce anche a qualificarsi senza passare i play-in arrivando sesta potrebbe essere la la come si dice potrebbe far saltare il banco adesso Philadelphia sia un underdog anche perché quest'anno non so se ha un allenatore non so se sai la notizia quest'anno siamo un allenatore a differenza di una squadra che abbiamo citato prima mentre ok sì siamo lì non so se parla le due io non ne parlo finché non ne vado a coppia no scherzo finché non ne vado a coppia no no ci sta tanto avremo modo ancora nelle prossime settimane quando sapremo bene play-in fine di play-in inizio play-off parlare meglio della situazione certo che non mi aspettavo che fossero a quel punto sono estremamente felice tanto che ti dirò il mio sogno è che le nostre due squadre si sfidino in finale però quello sarebbe bellissimo cioè perché a parte che se dovesse succedere ci devono pagare perché abbiamo iniziato a fare il podcast quest'anno quindi se finisse così vostre ok sì ci devono pagare perché è evidente che portiamo fortuna cosa che dubito perché non è mai successa che noi portassimo fortuna a qualcuno quindi mi sa che stiamo facendo del male quindi non solo ci pagheranno ma ci faranno anche una multa se sei voglia come ultimissima cosa prima di dare poi l'appuntamento alla prossima puntata ti chiedo una finale invece per te perché io sogno quella invece tu non so se vuoi dire quella che sogni o quella che magari ti aspetti di più che possa succedere no che comunque avremmo modo ancora di parlarne quindi ah per una domanda a bruciapreno te ne dico due una che è irrealizzabile che è Dallas contro Philadelphia è il sogno cioè sì che a parte a parte Boston Casey che abbiamo già detto che è il sogno proprio cioè incredibile questo è proprio che tutti gli asti si devono allineare perché queste due squadre però direi che vado sulla più semplice che è Boston contro Denver che è quella che alla fine hanno dimostrato non solo di essere migliori in regular season ma di avere anche un po' la mentalità e tutto costruito intorno per poter arrivare fino fino alla finale quello che di sicuro sappiamo è che lo scopriremo no nelle prossime partite ma c'è ancora un'ultima giornata perché domani voglio ricordarlo a tutti che in orario italiano se non sbaglio si giocano diretta NBA praticamente alle sette e mezza e alle nove e mezza sì quindi sono già lì seduto adesso finisco la cosa e mi vado metto già lì sì bravo mi metto già lì a guardare così poi noi potremo commentare meglio la prossima puntata quindi come sempre vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata vi aspettiamo nei commenti per sapere come sono secondo voi i vari accoppiamenti e niente Dani un saluto a tutti la prossima sarà già di play in quindi avremo molto di cui parlare bella bella ci siamo l'attesa la nostra attesa sta per essere ripagata dai due mesi più belli dell'anno dai e via grazie a tutti e l'appuntamento come sempre alla prossima ciao Dani ciao a tutti di poste ciao 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 Grazie a tutti.